Good morning Juventus, immagino che molti di voi, me compreso, si stavano chiedendo come mai Tiago Motta è sposo promesso della Juventus, allenatore annunciato ma non ha ancora firmato, Conte è stato annunciato, Palladino è stato annunciato, Italiano è stato annunciato, Gasperini è stato riconfermato, Inzaghi è stato riconfermato, la Juve ha esonerato Allegri, ha trovato la quadra e l'accordo ma non c'è ancora l'annuncio o meglio la firma di Tiago Motta. Io mi stavo cominciando un po' a preoccupare se devo essere sincero, non che non arrivasse, non che non arrivasse ma che in qualche maniera le voci che c'erano intorno al fatto che lui chiedeva di più rispetto a quello che invece era stato patuito fossero vere, invece erano tutte balle, come avevo fortunatamente anticipato io la settimana scorsa. Poi fortunatamente avendo qualche fonte, non tantissime ma ben informate, mi è stato detto una cosa che mi ha lasciato in qualche maniera estrefatto, perché mi sono detto cacchio ma perché non ci sei arrivato da solo? È di una banalità, di una semplicità il motivo per cui Tiago Motta non ha ancora firmato che vi lascerà anche a voi, credo a bocca aperta. È tutto qua, guardate. La stagione che andrà ad iniziare intorno al 10 luglio, perché il raduno della Juventus sarà intorno al 10 luglio con le visite mediche 10-11 luglio, intorno appunto a questa data, può poi trasferirsi intorno al 20 in Germania dove c'è un bellissimo complesso sportivo dell'Adidas, durerà fino a luglio del 2025. Perché? Perché ci saranno, dopo la Coppa dei campioni, la Supercoppa italiana a gennaio, la Coppa Italia tra gennaio e maggio, il campionato e la Champions League, ci sarà il mondiale per club tra il 15 di giugno e 15 di luglio. Quindi Tiago Motta, che ha già dato le linee massime di movimento e di guida, aggiuntoli per gli acquisti e per le cessioni, si sta godendo una strameritata vacanza. Questo dimostra che Tiago Motta è una persona che guarda avanti, è una persona che non vive la giornata, è una persona lungimirante. Si sarà detto, cavolo, io ho finito una stagione intensa con il Bologna, devo andare ad affrontare una ancora più intensa con la Juventus e quindi mi godo la mia famiglia, i miei affetti con calma. Ed è proprio così. Difatti Tiago Motta è ancora in quel di Cascais in Portogallo con le figli e con la moglie e si gode veramente una veritata vacanza. Non è escluso che ci sia l'annuncio della Juve, perché adesso sapete che con le nuove tecnologie, firme digitali, con le call conference, in qualche maniera possano anche magari annunciarlo prima. Ma vedrete che Tiago Motta, Tiago Motta fisicamente a Torino, alla Continassa, probabilmente, probabilmente lo vedremo tra fine giugno e inizio luglio. Non prima, non prima. Poi chiaro, se magari Tiago Motta avrà ansia, desiderio e staccherà prima dalla sua vacanza, probabilmente verrà prima. Ma da quello che mi è stato così messo nell'orecchio, come si suol dire, da questa persona che non sbaglia un colpo e lo ringrazio infinitamente, Tiago Motta adesso è lungi dal voler essere a Torino per fare cosa? Poi nulla, perché come vi ripeto, basta alzare uno smartphone, fare una conference call e chiamarsi congiuntoli o con chi per esso per costruire la Juve del futuro. Non c'è bisogno di Tiago Motta per dire che sulleva tenuto o ceduto, che Chiesa va tenuto o ceduto, che Copminas lo vuole a tutti i costi, che Calafiori lo vuole a tutti i costi, che Di Gregorio sarà il portiere della Juve, che Cesne si deve trovare un'altra squadra. Per queste cose, nel momento in cui Tiago Motta ha fatto la lavagna dei buoni e la lavagna dei cattivi, basta giuntoli con l'ausilio, scusate il gioco di parole, di Pompiglio, che nel frattempo è arrivato a Torino e diventerà il braccio destro di di Giuntoli in attesa di Stefanelli, che concluderà la sua stagione al Pisa e diventerà il braccio sinistro, il braccio armato della legge, come si diceva in un film famoso. Per cui, signori, non dovete assolutamente preoccuparvi. Sono tempi canonici di una vacanza meritata di Tiago Motta che si sta rilassando, sta ricaricando le pile per una lunga, intensa e speriamo proficqua stagione alla Juventus 2024-2025. Ecco svelato l'arcano. Adesso sono più tranquillo. Good morning, Juventus.